Lo sport per ricordare le vittime della strada a San Ferdinando di Puglia si è tenuto sabato scorso il quarto memorial, giovani vittime della strada organizzato dal futsal San Ferdinando. Siamo ormai alla quarta edizione di questo memorial, nato per ricordare i nostri amici che prematuramente hanno perso la vita in incidenti stradali. Noi, visto che erano giovani come noi, preferiamo ricordarli così, anche perché fino a qualche anno fa, qualcuno l'anno scorso, insomma, giocavano qui con noi. Quindi preferiamo ricordarli in una festa di sport. Ospite d'eccezione è il capitano dell'Empoli, Davide Moro, che ha partecipato al quadrangolare amatoriale. Una bella iniziativa, ringrazio Giuseppe per avermi invitato, è sempre un piacere stare qui con gli amici nuovi che mi hanno presentato e poi il rispetto va a queste persone, questi ragazzi appunto che hanno perso la vita per la strada. Quindi è un evento importante per me, quindi sono felice e ripeto, lo ringrazio tanto perché si fanno tante cose magari nella vita che non sono importanti e questa per me lo è.